San Nicolò, San Nicolò, nella quale si narra come nelle nostre vecchie province ci fossero due maniere di alietare il 6 dicembre dei bambini, o con un San Nicolò invisibile che depositava i suoi doni sul davanzale, o con un San Nicolò visibilissimo in paramenti episcopali che li onorava nel giorno a lui consacrato di una sorprendente visita personale. Una volta, prima della prima guerra intendo, ve' era grandi miserie ma anche grandi ricchezze. Oggi invece tutti pianze miseria. Ma dove mai oggi per le feste la gente se contentassi di far come che si usava una volta? Perché se vi ricordessi ora Nina, una volta non si usava a far per le feste quel che si usa oggi. Prima della prima guerra? Prima, dopo, durante. Mi temo dire ai fioi. Per Nadal ai fioi, dogra fioi, ma regalo, proprio regalo, che si faceva solo che per San Nicolò e se era fuori del pensiero. No, invece adesso i pretende e per San Nicolò, e per Nadal, e per il nuovo anno, e per i tre re, se basta. E non solo che i fioi, anche i grandi pretende. Ma i fioi, una volta, solo che San Nicolò e Amen. Che in allora era già un sacrificio. Ah, quanti sacrifici che si faceva una volta per i fioi. Sacrifici per i fioi? Cosa vole'? Dove che se l'innocenza se la providenza? Come che diceva madre concetta delle muniche del squero. Ma passasse a Nicolò, per Nadal, dove che si faceva regalo, una volta. Per Nadal solo che l'albero. L'albero di Nadal? No, l'albero di maestra. Sicuro che l'albero di Nadal. Che poco sa se che metteva su uso. Le candelette coi ciappini, fighissuti, naranze. Mandarini, involtizzati in carta d'argento, magari. Un fiade mandolato e buzzolai. Che coi fioi se che li lasciava di spiccar. Quella ve' era tutta la festa. Eh, Mandarini in carta d'argento. Mi ricordo, sì, che se salvava apposta la carta d'argento delle cicolate. Adesso invece che vol per i fioi che che sia qualcosa non solo solo ma anche sotto l'albero. Eh, anche per i grandi. Invece una volta solo i fioi è solo per San Nicolò. Sabe come che se dici, Sioranina? Benedetta quell'età che se gode non se sa. Anche se a me me par che oggi fioi sa anche troppo. Difatti adesso non se fa più San Nicolò, San Nicolò. Adesso si fa solo regalo del San Nicolò. Come sarei a dir che non se fa più San Nicolò, San Nicolò? Sarei che c'è una bella differenza perché una roba se è San Nicolò come San Nicolò che il muletto crede che vi è in San Nicolò e un'altra roba se è ciapa qua coccolo che se è San Nicolò. Eh, sì, c'è vero. Con noi erimo i fioi trovavamo i regali sotto del cammin. Eh, sì, adesso cammin. Ma chi ha più cammini? Adesso dove vuole fargeli trovare sul bolitor? No, mi adesso a quei domi ne vodi più picci che metto sul sburto della finestra. Quel che se è più grande già sa, mi calcolo. Ma lui calcola che noi non savemo che lui sa. Ma cosa sburto in lo sburto? Mi volevo contarveve, parlo deprima della prima guerra, quando che qua in paese si faceva vero San Nicolò. I regali? Sicuro che i regali, ma quella volta li portava proprio San Nicolò. Prima della prima guerra. Prima di tutte le guerre, si ora nina. Volevo dirvi che un si vestiva proprio di San Nicolò e si che faceva ai fioi di sera l'improvvisata con barba, pastoral, piviale e mitra. Ah, mitra che l'ho regalato anche mia una volta. De qui con la batteria che fa la falisca e anche il sussuro. Ma che mitra, ma che batteria, ma che sussuro. La mitra intendevo la mitria come che i volci amarghe oggi. Quella che gà in testa San Nicolò. E il cappel de vescovo, insomma. Ah, la mitria come il vescovo de osero in procession. Sicuro che la mitria come il vescovo de osero in procession. Cosa che aveva de mettersi il vescovo de osero in procession? E il basco col pirulici. Pu dove saver che a noi altri coglieremo putei de San Nicolò ne faceva barbanane. Con la barba, il piviale, il pastorale e tutto. Che anzi mi sono stato il primo qua de noi fioi che lo gara visado. E che dopo di fatti il mega dito. Ma l'ignaggio mulo, ti de grando ti andara dritto per il mondo solo statento. Coti sarà grando che per voler ser troppo furbo noi tecavi la matricola. Povero barbanane. Mi ricordo che poco era za grando e za navigavo. Un anno che lui zag aveva quasi perso le gambe. Una dimenica dopo messa grande in domo e il mega ciamarente sentado in banco che il parlava con Don Blas e il mega dito. Bortolo sto anno per San Nicolò fatti. Ed è quell'anno mi sempre e qualche volta anche ton'impoli drugo. Ah perché vuoi vestivi de San Nicolò? E come? E che ben che anzi dopo che barbanane era morto. Don Blas diceva che figuravo me o mi come presenza che lui, uomo piccolo che gli era. Ben bom. Dovesse aver che un anno che ieri mo imbarcati sul Jupiter, ieri mo rivadi a Trieste col comandante Brazzanovic. Sul vapore faceva profumi e così ieri mo vignuti tutti qua in paese a casa za per San Nicolò. Profumi? Ma sì dai, disinfezion, disinfestazion, come che vuol ciamarghe. Ma noi invece i maritimi che ciamavimo profumi. E allora una roba e l'altra. E vu dove saver che il comandante Brazzanovic che se che aveva sposato za in Italia aveva un fio piccio, Nicoletto. Ah il piccio Nicoletto Brazzanovic mi ricordo si è il fio del comandante Brazzanovic che sua moglie era assai più giovine de lui. Indifferente. Adesso la sevece anche a ella. Fatto sta che durante il viaggio ieri mo vignuti in discorso col comandante Brazzanovic che mi e toni in polidrugo usavimo a far San Nicolò per le case. Ah in do come i tre re. Ma cosa in do come i tre re? Un po' con me, un po' con lui. Prima andavimo del parentà, po' dei amizi, un po' chi mi, un po' chi lui e dopo che se che avevimo vestì delle munighe. Ve vestivi delle munighe? Ma no sioranina, andavimo in cesa delle munighe del squero e la iera madre conceta, vi ricordè madre conceta, che la ne lassava ciò riparamenti per vestirsi de San Nicolò. La che aveva robe splendide che le faceva l'ore tutte a man ricamade in oro per quando che vigniva il vescovo de Ossero. Quella volta Ossero aveva ancora vescovo. Anche Pedena, anche Pedena ma anche Ossero. Insomma, noi che avevimo con tal comandante Brazzanovic che le munighe ne lassava vestirsi per farghe San Nicolò ai fioi, perché savè dove che se l'innocenza se la providenza, come che diceva madre conceta povera defonta. E il comandante dice, ci fa, ci dice, ha visto che g'avesta occasione, perché un de v'altri no vieni anche a casa mia del mio Nicoleto, che il g'ha anche la festa a combinazione, perché il se c'ama Nicolò. E il piccio Nicoleto Brazzanovic? Sicuro, Nicoleto, Nicolò. Visto che g'avesta occasione, ne dici, che un de v'altri vieni a casa mia? Eh, i Brazzanovic che aveva una bella casa, me la ricordo, in Punta Sant'Andrea. Dopo la guerra i partigiani, prima che aveva fatto colonia marina, e poi la g'ha buttà da zoo per far l'albergo. Oh, altro che bella casa, neanche a Trieste mi ne ho visto case compagne. Da dentro intendo, tutto belli lampadari, tappeti d'elevante, quadri a oio proprio in pittura. Pensevese che in camera de pranzo iera in pittura el Jupiter, el vecchio Jupiter ancora, pitturado col mare in tempesta al capo di buona speranza. Bellissimo, con le vele e tutto, che se poteva contare i bozzei sui alberi e tutti i terzaioi. Bellissimo. E il quadro? Non solo che il quadro, tutto era bel, signoranina, ma pochi g'avut occasione di vedere quella casa de dentro, perché quando che il comandante Brazzanovic navigava, la moglie e la signora Bortolina, sorella del comandante, una puttaveccia che stava con loro, non le voleva nessuna casa, fora che il parentà e la veciatona natural che faceva tutto. E con iera a casa lui, era lui che non voleva nessun, perché il diseva, co son a casa, de raro che son a casa, mi voglio godermi la mia pase. Eh, giusto, giusto, carateri, per dirve che pochi aveva visto quella casa de dentro, che sempre la veciatona contava maravè da esta casa, e così potei capire in curiosità che ieri mo subito mi e Polidrugo che avemo dito che sì che anderemo. Che andere andove? Ma come andove? Che un de noi andrà a far che de San Nicolò al piccolo Nicoletto Brazzanovic in casa sua del ori. Insomma, per farve la curta, la sera de San Nicolò andemo in cesa delle munighe, che là in sagrestia ne aiutava a vestirne Severino. Vi ricordai Severino, quel che i lo chiamava Momolo? Ah, Momolo delle munighe, eh sì sì che me lo ricordo, se tanti anni che si è morto. Eh, per quel si è morte anche le munighe. Insomma, mica avevo il pivial rosso, quel bel che metteva sempre il vescovo de Ossero col vigniva qua. E Polidrugo anche un bel pivial rosso, solo più piccolo, che era ancora il del vescovo de prima che i era omo piccolo. Quel che metteva sempre Barbanane col fazzevalude San Nicolò, che i era proprio adattato per Barbanane, che i era anche omo piccolo. Oddio, omo piccolo, non li era tanto grande? Indifferente. E voleva credersi, Oranina, che Polidrugo i era ancora più piccolo de Barbanane, tanto che colga provato a camminare si intoppava nel pivial, e le muniche che dovessero fare sotto una pietà con un sorapponto. Che anzi, madre concetta, quello che ha visto, che faceva la pietà, la che ha detto. Voto ninse come vostro padre, piccolo omo, ma grande canaia, un ridder, ste muniche inzenocciade che faceva il sorapponto, che non vi dico. E le muniche del squero che aveva mande oro per cuser. Ma cosa mande oro per un sorapponto? Insomma, ve contavo che mica avevo il pivial rosso e Polidrugo anche quell'altro, con la pietà e la mitria, bellissimo, con la barba attaccata, fatta del bombaso, e vestiti che ieri mo' e già fuori delle porte delle muniche, disemo. Allora, chi va del comandante? Ma veramente che andassi mi, che l'andassi lui. Venga, dico, senti, femmo una bella roba. Prima andemo del parentà. Mi dovevo andare de mio fradelo, de mio cugin Beppi de Fonto, e lui de tutti i Polidrugo, che era una zaia de fioi che non vi dico. Femo intanto il nostro solito giro, che dico, e dopo se trovemo de novo qua e faremo pari e dispari per chi che se spoglia e per chi che va del comandante Brazzanovic. Perché vu volevi andare? Sicuro che volevo andare, anche per poter dire in un domani de g'aver visto sta bellissima casa del comandante Brazzanovic che tutti parlava, ma anche Polidrugo voleva. Il faceva come che no, che non gli interessa più che tanto, e invece mi sapevo che lui assai che tigniva. Che tigniva lui de comparir col comandante, e come? E li era, sape, zainalora un de quei che se rampiga. E invece volevi andar bu? E sape, giovini che ieri mo giovinotti e il comandante assai ne poneva. Ah, e chi se andà? Spette, spette, fora delle munighe, mi de qua e lui de là. E Migo pensà. Mi vado dritto del comandante. Dopo a Bolidrugo che conto la storia dell'orso, che qua che là, che per combinazione gontiva il comandante marina via che tornava ad essere andato a Cior Spagnoletti e che il megaditto vien. E così si andà dovù? Sicuro? E subito. Sabe come era fatta la casa dei Brazzanovic? Sul davanti che dava sul marlag aveva il balador con la scala de Piera. E allora mi su per la scala de Piera del balador, batto sul vetro della porta, vien foro il comandante Brazzanovic, tutto in zitto il faseva, e il me dai regali, tutto in zitto il rideva, e vado drento. E in sto bel saloncin bellissimo che gli aveva, gli era sto puttei. E il gav era avuto un sì e anni quella volta. Nicoletto? Sicuro, Nicoletto Brazzanovic. E il me guarda con sti doci stupidi. Ai fioi, se di mangiarli qualche volta. Indifferente. E il me guarda con sti doci stupidi, che vado incontro e che dico, sei buono sì tu, Nicoletto, non farai rabbiare la mamma, il papà e la zia, che era la signorina Bertolina. E che veniva a stare la sorella del comandante, quella puttaveccia, Ela. Insomma, intanto che gli dago i regali, si sente batter sul vetro della porta del balador. E il comandante dice, Verze, che sarà la veciatona che gli è godito di mandarmi a cior spagnoletti. I verzi. E si sente di foro a dire, Sei buono sì tu, Nicoletto, non farai rabbiare la mamma, il papà e la zia. Insomma, volevi credersi a una nina. Vevi in dentro polidrugo vestito di San Nicolò, che il gav aveva tentato di fracarmela. Piccolo uomo, ma grande canaia. E manché vu che la gav evi fracà da lui. E il piccio? Sioranina. E il piccio ve' era un spettacolo. Il me guardava prima a me, e dopo a polidrugo. Po' di nuovo a me. Stidò San Nicolò. Chissà cosa che ghe lavorava in quella testa. Ah, che peccà. Così non l'ha più credesto in San Nicolò. Come no, sioranina, l'ha credesto e come? Lui, come che ghe ga subito spiegato la zia, sta signorina Bortolina, sorella del comandante, l'ha credesto che se due San Nicolò. Un grande e un piccio. San Nicolò e San Nicoletto. San Nicolò per tutti. E San Nicoletto solo che per lui che se c'amava Nicoletto. Ed è quella volta sempre doppio regalo, i gadovesto farghe per San Nicolò. E, sioranina, dove che se l'innocenza, se la providenza.